Salve, senta, io ho perso lo scontri, ma questa cafetera qui è una porcheria. Ci mette quasi più di mezz'ora, anzi è stato mezz'ora e il caffè non viene fuoco, ieri mio padre c'era a te, Villa Micare, al limite ne prendo un'altra cosa di più, ma questa è una porcheria, salmi con una caffettiera, potete mica vendere una roba del genere. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Villa Villa Micara mio padre Villa Micara Ieri No abbiamo pagato con Non so se mi ha messo in trovo Non mi ricordo più Ho pagato con Non mi ricordo più Se mi ha messo in trovo in tenso Non mi ricordo più No mi ricordo più No mi ricordo più 16 euro sì ma sarà mica una caffettiera questa roba qui sarà mica una caffettiera questa roba qua la nostra roba Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.